Mi chiamo Godwin De Micoli, sono il direttore regionale della Infocom per l'Europa e sono qua perché noi abbiamo un rapporto con la SIEC molto gradevole, molto buono. La SIEC è per noi la piattaforma che ci aiuta di fare la formazione, la certificazione e poi anche i nostri strandals nell'Italia. Questo non lo possiamo fare da soli e abbiamo entrato in un colloquio con la SIEC che ci aiuta. Nel prossimo futuro facciamo anche un friendship agreement con loro che mi aiuta a prolungare questo rapporto con loro.